Un cordiale saluto a tutti i presenti. Siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio tra Diego e Stefania. Entrambi sono qui oggi per coronare la loro unione. Grazie a tutti. Celebriamo ora il rito matrimoniale. Vuoi tu, Diego, prendere in moglie la qui presente Stefania, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e di onorarla tutti i giorni della tua vita. Sì, lo voglio. Vuoi tu, Stefania, prendere il marito qui presente Diego, promettendo di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e di onorarla tutti i giorni della tua vita. Sì, lo voglio. I testimoni qui presenti degli sposi hanno sentito? Sentito. Dichiaro quindi che Diego e Stefania sono da ora e per sempre uniti in matrimonio. Un applauso per favore. Potete anche baciarvi, se volete. Procediamo ora allo scambio degli anelli inunziali. A me va puntando? Sì, va bene. Va bene? Allora, un attimo. Il microfono lo prendo io se vuole. Lo chiedi tu? Sì, sì, sì. Stefania, ricevi questo anello il nome dell'amore che ci lega. Speriamo che mi entri. Con forza. Con forza. Giusto. Io lo faccio tenere. Perfetto. Diego, ricevi questo anello il nome dell'amore che ci lega. Bravo! E allora? E' arrivato un momento che io definisco importantissimo, perché finalmente lo sposo può baciare la sposa. Bravo! Siete pure i bagni e i ragazzi con la schiena a me. Signore e signori, gentili ospiti, parenti, amici, è con piacere che vi presento per la prima volta il Signore e la Signora. Procediamo ora alla firma del discorso cerimoniale per parte di voi sposi e quindi dei rispettivi testimoni a memoria di questo giorno e della vostra unione. Grazie. Grazie. Ed ora, a conclusione della cerimonia, vorrei formularvi i miei auguri personali. Vi auguro che la felicità di oggi vi accompagni lungo tutto il percorso della vostra vita. Il cerimoniale è finito, adesso ci sarà un'uscita spettacolare di questa coppia. E che i festeggiamenti cominciano. Prego, vai. Grazie. Grazie.